Siamo davanti a un qualunque supermercato e stiamo annunciando la morte del sacchetto di plastica. Sì, del sacchetto di plastica non distruttibile, non biodegradabile e usa e getta. Invece si possono utilizzare, come potete vedere, degli ottimi sacchi studiati apposta per essere della forma del carrello della spesa, piuttosto che dei sacchi di juta, in queste cose juta che addirittura proviene dal mercato ecosolidale, quindi sicuramente di agricoltura biologica e prodotto dagli artigianati locale, piuttosto che sacchetti di stoffa di qualsiasi altro tipo o anche di plastica robusta e riutilizzabile, come per esempio questo materiale, sacchi di diverse dimensioni, anche molto più piccoli. Come può essere questo sacchetto che io direi da businessman, cioè una cosa che si può chiudere con addirittura la borsettina dove si mettono le chiavi, diventa uno zainetto ma contemporaneamente può essere messo in una borsetta perché diventa e si appallotola in questo modo con la chiusura lampo finale. Insomma, tutte le soluzioni possibili si stanno inventando, compresa una cosa tradizionale, pensate, questa retina per la spesa ha 30 anni, viene utilizzata ancora, anzi lo utilizzo io, ed è messicana.